E' una norma contro gli abruzzesi perché divide gli abruzzesi e li mette l'uno contro l'altro su un tema sensibilissimo quale quello delle politiche sociali. Il parere dell'ufficio legislativo è chiaro e recita testualmente il titolo di precedenza previsto dalla norma è contrario alla funzione sociale degli asili nido e alla vocazione universalistica dei servizi sociali. E' gravissimo quello che stanno facendo. Mettessero più soldi sul sociale per dare risposte alle persone che hanno disagio, che sono in difficoltà. D'altra parte le scelte di questa maggioranza nei nove mesi sono state quelle di affidare consulenze, nominare. E' tutto un po' il tronificio. Una delle prime scelte che hanno fatto è stata quella di aumentare lo stipendio dei manager della ASL, peraltro non abruzzesi. Ma di che cosa parliamo? Per la povera gente mettiamo un abruzzese contro l'altro invece per quanto riguarda le consulenze, le nomine dirigenziali, le nomine di altro tipo si continuano ad aumentare posti, poltroni e stipendi. E' davvero radicalmente l'opposto. Vogliono spacciare una norma per dare una precedenza e al contrario divideranno la povera gente tutta abruzzese.